Buon pomeriggio anche a voi dallo studio centrale oggi Shanghai, Bermuda, Lacoste, un ombrellone e anche un po' di nive a go-go per una giornata splendida estiva all'ippodromo di Agnano. Seconda tris sirena numero 10 la pioggettonata, rilancio dar numero 8 si ritrae, via la macchina. Si lotta per il comando, con lotta accesa dal centro Sor Bruno tenta di emergere, e infatti l'allievo di Palomba scende lungo i birilli. Ci completa il lancio in 13 e 2. Siamo al completamento della piegata, con i due a balbettare. Zikdet tenta di impegnare il leader, la cosa avviene e gradatamente passa, interviene il 4 di Ravelbrook, poi il 13 di Samira Guasimo, 28 e 9, fuoricorsa il 2 di Saturnia Lewis. L'andatura è veramente eccellente, 43 e 3 da 1, 12 e 2. Sta sfondando Ravelbrook con il buon sabato, rimane in asino al vento la Samira Guasimo. Si va al completamento del mezzo miglio iniziale, mezzo miglio in 58 e mezzo 15 di frazione. L'andatura si mantiene sempre vivacissima e non avvengono variazioni sostanziali. Ravelbrook, la Samira, poi il 3 di Selene ed Ete e il 9 di Selene ed Ete. Chilometro in 13 e 1 addirittura. Selena Jet nelle prime posizioni ha anche l'altra compagna di nominativo, c'è l'altra Selena, targata Ete. Allunga bene, Ravelbrook mantiene il comando, viene via Selene, targata Ete. 14, 8, fan 1, 27, 9, 3 quarti in miglio, scappa via Ravelbrook un po' a palo lontano ma guadagna. Viene via la sirena che ha trovato traffico infinito e si ingamba, si ingamba a largo con azione notevole. Suona la sirena, suona la sirena, tutti incantati dalla sirena. Poi il 12 di signorotto e rilancio dar. Serena come vuole, signorotto pare e secondo e terzo lotto di rilancio dar. Suona la sirena, tutti incantati di questa sirena che al terzo tentativo porta a casa tre vittorie. Tutto merito del team Tufanomania, Francesco Cicciotto Tufani Inzalchi, un allievo che non è più ormai un allievo. 1,58 e mezzo, 1,14 e 1,1 e 53. Ripeto, suona suona e come suona questa sirena e rimangono incantati tutti gli avversari per questa sirena. Linea allo studio.